Sono lieto di rivolgere a tutti gli auguri più cordiali e più sinceri di una buona e santa Pasqua. La Pasqua, prima di tutto, è la Pasqua di Cristo. I racconti del Vangelo e la nostra fede ci dicono una verità straordinaria. Gesù, morendo sulla croce e poi sepolto, ha portato con sé tutto il male, tutti i peccati dell'umanità e la sua morte, ma risorgendo ha portato una vita nuova. Questa vita di Cristo, questa risurrezione, vita nuova di Cristo, la partecipiamo anche noi. Quindi la Pasqua di Cristo diventa la nostra Pasqua e questo vuol dire un rinnovamento profondo. La Pasqua è la primavera dell'umanità, come la primavera meteorologica porta nuova vita, porta fiori e frutti nel cosmo. Così la Pasqua di Cristo, che avviene sempre anche in primavera, è il segno di un rinnovamento profondo. Che cosa è che Cristo ha fatto morire? Un mondo senza Dio, un mondo fondato sull'orgoglio, sulla potenza, sul profitto esclusivo, sull'oppressione, sulle disuguaglianze. E questo prima di tutto dobbiamo attuarlo dentro di noi e poi anche nella società. Quindi fare Pasqua è un augurio, ma è anche un impegno, ma un impegno non da soli, ma affidandoci alla potenza dell'amore di Cristo. Noi facciamo Pasqua insieme con Cristo, quindi quando con la fede, con l'amore, con la disposizione interiore, riceviamo queste energie che Cristo ci dispensa. Allora la Pasqua diventa anche una fonte di speranza, una fonte di gioia. Quindi è l'augurio che faccio a tutti voi, alla nostra società, di accogliere la Pasqua del Cristo, di farla nostra con sentimenti di fede, di speranza e di gioia profonda. Buona Pasqua a tutti.